Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Matioschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a una nuova puntata del Matioschi Show e siamo qui anche quest'oggi per parlare delle ultime notizie dal mondo del cinema e delle serie tv lo facciamo in compagnia di due ospiti il primo, lo sapete, è la colonna portante del mercoledì l'uomo senza il quale tutte le mie certezze crollano abbiamo Scream, benvenuto grazie all'insolita certezza, eccomi qua anche se stavolta un pochino malaticcio ma nulla mi impedisce di presenziare e fare sempre le mie brutte figure quindi buongiorgio, benvenuti a tutti e via, pronti a iniziare nulla può distruggerti e poi ritorna una delle nostre ganze gli abbonati di livello superiore coloro che detengono le sorti del mondo quest'oggi è il turno di Simon Leblonde Simon Leblonde, esatto la volta scorsa non avevo messo Leblonde perché mi avevo appena rasato ero nel post quarantena e adesso stanno ricominciando a crescere i capelli quindi mi sembrava appropriato e niente, fantastico ho visto le notizie e sarà una puntata molto divertente oggi tre notizie flash intanto Scream sta cercando qualcosa no, ho cambiato invece mi sono appena dato una spuntata quindi non saprei come definirmi dovrei farlo anch'io ma appena mi avvicino i parrucchieri chiudono non so perché a me il parrucchiere ha detto hai proprio tanti capelli sai io ne ho davvero trovi però io sono veramente una truffa perché sai quando c'è il taglio da uomo il taglio da donna costa sempre di più perché sai io sono l'eccezione quindi per il taglio da uomo con poco devono fare un casino di roba poi mettono anche i bigodini quindi soffrono quando mi vedono lei è un truffatore benissimo abbiamo tre argomenti oggi tre notizie flash sono tutte comunicazioni che però qualcuno dovrà pur darvi e quel qualcuno sarò io perché mi sono insegnito di questa carica svegliandomi la mattina dunque vando alle ciance e iniziamo a parlare dei nostri tre argomenti principali iniziamo subito con un annuncio fresco fresco dunque il primo film di sonic ve lo ricordate la polemica per il trailer uh come brutto quel sonic lì cosa hanno fatto la ribellione lo cambiarono ma nessuno continuava a dargli due lire tranne per una volta mi vanto il sottoscritto che vedendo i trailer disse non è neanche così male sarà un film per ragazzi ai botteghini 319 milioni che rapportati al budget di 85 furono un ottimo risultato e quindi mentre il progetto detective pikachu si arenò incagliandosi contro uno scoglio sonic venne subito rinnovato con un bel secondo film che dovremmo vedere prossimamente al cinema non è ancora arrivato ma già ed ecco la notiziola è stato annunciato il terzo capitolo di quella che ormai è una trilogia ma mica si sono fermati qui ci sarà una serie tv live action quindi non animata live action su knuckles personaggio che sarà introdotto nel secondo film in originale doppiato da idris elba in italiano da Maurizio Merluzzo che sarà contentissimo di avere un po' di lavoro in più non sappiamo ancora niente su questi progetti per quanto riguarda il terzo film non è stato confermato nessun attore né il regista però questo ci lascia credere che stanno credendo veramente tanto nel progetto e che forse sono coscienti del successo del secondo lungometraggio noi non l'abbiamo ancora visto ma questo è un grande attestato di fiducia da parte di Paramount che comunque in un periodo in cui sta cercando di trovare dei brand da sfruttare non a caso ieri è anche arrivata la notizia che vede ormai ufficializzato il quarto capitolo dello Star Trek cinematografico quello che iniziò con il reboot di G.G. Abrams quindi una Paramount attivissima non mi aspettavo certo prima ancora di vedere il secondo film questa conferma perché il primo fu una mezza sorpresa il secondo oltretutto in tempo diciamo di pandemia può essere ancora rischioso secondo me no perché poi quando un film interessa la gente va a vederlo vero è però che nel 2021 le pellicole per famiglie escludendo i cinecomic non è che siamo andate benissimissimissimo eppure io mi ritengo legittimamente curioso certo il primo film non è che me lo porto nel cuore e me lo ricordo come simbolo di qualità ma fu divertente di certo più di quanto mi aspettassi con un Jim Carrey che ritornava un po' alle radici con un personaggio assurdo sopra le righe ma che funzionava e mi ha regalato un po' di gioia i trailer del secondo film mi sono piaciuti e quindi prego intanto sto immaginando il nostro Rob McQuack che da lontano esulta correndo nudo in strada dato che ho un grande appassionato di Sonic caro Scream cosa ne pensa? beh non mi stupisce un po' mi stupisce il fatto che abbiano proprio parlato fin da subito di serie tv il terzo film che deve ancora uscire il secondo uscirà che mi parla ad aprile però allo stesso tempo comunque sia perché no insomma il primo è andato abbastanza bene considerando anche il periodo d'uscita però è un film che ha fatto felici sia pubblico che critica ovvero chi è andato a guardarlo si è ritenuto soddisfatto soprattutto un film per famiglie per ragazzini ben riuscito come hai detto tu nulla di memorabile però il punto è che se guardiamo i cinegames il mondo dei cinegames che è un mondo putrido putrido orribile questo è uno dei migliori è uno dei migliori assieme appunto a Detective Pikachu eccetera quindi perché no e appunto perché no te lo dico io perché perché io non sono un grande fan di Sonic sempre preferito Super Mario da ragazzino perché mi era antipatico Sonic faceva quella faccia da furbetto dal tipo volevo prendere la cell phone quindi non ho giocato a tantissimi titoli però mi sono chiesto ok un terzo film e poi una serie tv su Knuckles ma quanti villain ci sono in Sonic sono andato a vedere il 90% sono tutte creazioni di Robotnik di Eggman non lo so non conosco la mitologia di Sonic sì ma il punto buono questo può essere una cosa positiva per farci una serie televisiva visto che è il cattivo costruisce tanti androidi tanti robot e li mette contro il protagonista ma contro Sonic invece usano Knuckles o creano qualcosa da zero oppure prendono uno di quei nemici minori ho visto ci sono alcuni giochi io sono andato a vedere su Wikipedia ho visto protagonisti personaggi secondari antagonisti una sfilza così tutta sta roba è quella creata da Eggman e poi dopo ci sono anche questi pochi quindi però ci sono dei fumetti del personaggio che vanno avanti da anni io non lo sapevo ma Rob mi ha fatto scoprire che in America sono proprio prodotti di culto la prima collana è stata pubblicata dal maggio 93 a luglio 2017 che comunque e poi adesso hanno fatto lo reboot e continuo a vendere copie su copie quindi lì magari qualche spunto c'è sì ma sicuramente infatti anche anime ho visto esistono degli anime dedicati a Sonic eccetera poi leggo Shadow che è un personaggio amato molto scuro però io voglio dire anche Shadow dovrebbe essere una specie di pseudo antagonista iniziale che poi dopo si trova a cioè si trova ad essere un personaggio positivo quindi Rob mi ha detto che la dinamica è quella di Dragon Ball quindi tendenzialmente i cattivi di Sonic se non muoiono e dubito che muoiano diventano alleati esatto più che morire si smontano è quello il problema cioè che problema c'è quando ho un robot viti e bulloni che partono non è che piangono quando invece hanno una personalità delle fattezze animalesche tendenzialmente poi vengono convertiti al potere del bene infatti ci sono dei robot che hanno una personalità e vengono convertiti vedi tutto già scritto è così è Dragon Ball il Dragon Ball riadattato sì è Durai Gonboru che corre sulle scarpe da ginnastica intanto qualche cattivo robotico sta tentando la vita di Simon ma no è tornato tutto a posto è sopravvissuto spera che non la sentiamo ma noi vogliamo sapere la sua opinione prego no stavo dicendo no ho avuto un problema col computer non so perché però si è risolto immediatamente la tecnologia si è ribellata si è ribellata sì 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 no stavo dicendo che il paragone con Dragon Ball è azzeccatissimo nel senso che tipo Knuckles e adesso i puritani mi verranno a cercare però Knuckles è simile un po' a Vegeta il contesto no del personaggio orgoglioso duro ultimo della sua specie che viene raggirato qua da Eggman là c'è la freezer ovviamente però l'idea è quella quindi in realtà la serie tv su Knuckles secondo me ha molto 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 senso poi devono stare attenti perché per esempio Dragon Ball se ci fosse solo Vegeta magari non funzionerebbe perché spesso bilancia no infatti Sonic e Knuckles insieme funzionano da solo non lo so però è anche vero io ho legato immediatamente la notizia a Paramount Plus che credo che sia un servizio che devono lanciare quindi sicuramente hanno bisogno di brand da cavalcare poi tu dici giustamente che il paragone un po' con Detective Pikachu ci sta nel senso che comunque io Detective Pikachu ti dico l'ho apprezzato molto di più di Sonic ma mi sono reso conto che però i personaggi di Sonic erano più sfruttabili perché Jim Carrey comunque te lo chiudono che sai che ci sarà un sequel Sonic bene o male crea un personaggio che bambino ci si rivede invece lì Pikachu non voglio fare spoiler ma succedeva una roba per cui molto della struttura era bello perché è un film molto conclusivo ma che lasciava magari meno spazio all'apertura e poi era più costoso cioè io credo che abbiamo speso anche di più per Detective Pikachu sì credo fosse più costoso allora si aspettavano un risultato eclatante anche perché non so se ancora oggi 16 febbraio 2022 ma all'epoca i Pokémon erano il brand videoludico più venduto superando qualsiasi altra saga lì fu la dimostrazione che non sempre a successo in un medium corrisponde al successo anche tutti gli altri anzi secondo me molto spesso i videogiocatori se ne strafregano delle trasposizioni cinematografiche con Sonic secondo me colpirono veramente il pubblico dei bambini perché mi sono immaginato io da ragazzino quando andavo ogni sabato costringendo mia madre a portarmi al cinema sarebbe stato un film molto funzionale molto sì è quel film per ragazzini che un po' mancava poi come hanno riprovato proponendo nuovamente Tom e Jerry ma lasciamo stare tra l'altro secondo me era un film per ragazzini molto più centrato di Detective Pikachu che secondo me invece era più per noi adulti che per anche per le tematiche aveva qualche sferzata importante e poi una cosa bella c'è da dire tu dici di Merluzzo è che se non sbaglio non vorrei dire una cavolata ma è anche il doppiatore di Knuckles nei videogiochi o in altri media e quindi è carino che abbiano questo tipo di sensibilità magari sperano di portare gli amanti del videogioco a vederlo anche per quello tanto ci dicono che Pokémon è il brand che guadagna di più in generale mettendo assieme qualsiasi cosa beh capirete che da Detective Pikachu si aspettavano non dico il miliardo però un po' di più di quanto fatto ma francamente anch'io infatti non mi spiego come Detective Pikachu sia andato così male perché ricordo è uscito quando c'era anche l'esplosione di Pokémon Go beh c'era Pokémon Go tanto stanno cadendo cose cosa sta succedendo lì da voi è qui da me è qui da me è qui da me c'è Sonic che sta distruggendo una cucina la mia location infatti è indicativa ci sono dei lavori in corso quindi ogni tanto mi immaginavo la scena tipo c'è un ladro con la mascherina in azione solo che fa casino e lui lì sì 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 Pikachu era costato 150 milioni ne ha incassati 433 quindi se teniamo fede alla regola del 3 non è neanche rientrato pienamente nelle spese sì poi tra l'altro gli 85 di Sonic non vorrei dire una cavolata ma c'erano tipo 5-6 milioni che ballavano solo per il redesign di Sonic in corso quindi sì c'era stata anche la maggiorazione pure sì 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 bene staremo a vedere io mi ritengo legittimamente curioso posto che non dobbiamo aspettarci il Batman di Matt Reeves sono film leggeri carini simpatici ma già vedendo i trailer del 2 c'è un robottone gigante la follia la follia passiamo al secondo argomento sempre di cine game parliamo questo filone sta cercando di prendere piede non saprei però è stato annunciato un film prodotto da Netflix su Bioshock che per chi non lo sapesse ma secondo me lo sapete è una fortunatissima trilogia videoludica spara tutti in prima persona con una forte componente narrativa anche qui non sappiamo niente a parte l'annuncio Netflix produrrà il film assieme a 2K e Take 2 Interactive le case produttrici del gioco che quindi dovrebbero sottolineate il dovrebbero garantire una certa fedeltà ci si può domandare quale dei videogame della saga voglia trattare questo film a giudicare dall'immagine rilasciata si va a puntare sul primo sul capitolo d'esordio che tra l'altro è l'unico che ho giocato mi è anche molto piaciuto ma poi gli altri li ho persi di vista e comunque non dovrà essere cosa facile a mio avviso perché proprio il primo gioco che per chi non lo sapesse è ambientato in una città futuristica sottomarina una moderna utopia non è che abbia una narrazione complessissima si basa più che altro sulla ricostruzione degli avvenimenti noi arriviamo quando in città è già successo un disastro e ascoltando varie registrazioni incontrando diversi personaggi che però ormai hanno ben poco da dire direttamente riusciamo a risalire alle origini della disfatta io credo che un film potrebbe concentrarsi invece proprio sulla narrazione sulle fasi che hanno portato lo ripeto questa utopia basata oltretutto su una sorta di fluido che queste persone si iniettavano per diventare esseri umani perfetti ci si potrebbe focalizzare proprio sulla caduta della città rinunciando un po' forse alla componente prettamente action oppure facendo una sorta di di mashup con elementi da film d'azione e flashback un po' più inquietanti perché poi c'era anche una componente horror niente male questo nel primo come al solito è difficile pensare a un videogioco in versione cinematografica non so perché si impuntano è veramente tragica a volte la situazione però questo è un progetto che sta andando avanti da tanto tempo ad un certo punto Gor Verbinski aveva deciso di realizzare un film ad alto budget con atmosfere inquietanti nessuno gli ha mai approvato il progetto non credo si è coinvolto in questo ma stiamo a vedere mi interessa sono interessato curioso ed è singolare vedere Netflix ormai lanciatissima in questa operazione anche Netflix lo sappiamo alla ricerca di nuove saghe da smembrare da spolpare poi come minimo vorrebbero vorrebbero lanciare un bel brand su questo Bioshock caro Simon che ci dici a riguardo ma tu hai nominato Gor Verbinski ed effettivamente per me è una ferita ancora aperta perché era il 2008 io me lo ricordo io c'ero era appena finita la saga dei pirati dei Caraibi io ero abbonato a Chuck e mi ricordo la notizia che Verbinski che all'epoca sembrava remida dei blockbasteroni dovesse dirigerlo io ho preso benissimo perché conoscevo poco il videogioco però c'erano delle analogie fra le cose trattate da Verbinski e Bioshock e quindi io mi ho comprato il videogioco dicendo va bene io adesso me lo gioco e poi mi guardo poi quando a due settimane dall'inizio li trappavano le ali io per offeso non giocai al videogioco quindi tutt'oggi io non so che cosa succede ma so ho un paio di spoiler tipo di Star Wars Sian a memoria e tu Matteo Schi se ci hai giocato magari lo ci sono delle rivelazioni a un certo punto un po' così però boh non lo so devo dire che io erano anni che non ne sentivo più né nel bisogno né parlare il fatto che l'abbia preso Netflix è l'unico mio timore che c'è chi no magari il regista di poco conto magari in modo tale da poter gestire di più il progetto e secondo me Bioshock non credo che abbia questa cioè che il problema dei cinegames che hai sempre un po' paura col timore cioè con la trama no in bastione la trama ci vorrebbe un nome di peso che dica per esempio no io il primo lo faccio che finisce esattamente quando inizia il primo videogioco per esempio e ti spiego tutto quello però deve essere un nome di peso se no se lo mangiano vivo secondo me per quanto riguarda la mia tazza sottomarina ci sarà Avatar 2 magari si agganciano a questa cosa di andare può diventare un trend non lo so la prima cosa la prima cosa che ho pensato è stato da Avatar 2 non ad Aquaman 2 non ad Aquaman 2 no era fatta così bene l'acqua esatto chissà perché non ci ho pensato allora no Aquaman è una di quelle cose che nelle mie scatole della memoria c'è codita nelle chiuse e non ti raffa niente no ho pensato da Avatar 2 però anche lì c'è James Cameron dietro qua ci vorrebbe un regista non dico Verbinski che secondo me gli fa il gesto dell'ombrello a parte che non sta lavorando tanto quindi magari l'ombrello non glielo fa però ci vorrebbe qualcuno secondo me non glielo farebbe potrebbe essere non so quindi interesse sì ma molto molto modesto poi se un domani dicono arriva regista X o Y allora magari sì ok Cristian sei d'accordo? Cristian ti ho chiamato Scream no no basta perché sei mio amico amava Scream ma in realtà io più che sul regista spero tanto in una buona sceneggiatura perché è importante le due cose che mi spaventano di questo progetto sono la storia e il budget semplicemente perché la storia perché qui si parla di presentare una cioè Bioshock è una storia steampunk retrofuturistica ambientata negli anni 60 alternativi confermo che il film dovrebbe essere ambientato nella città di Rapture che è dove è ambientato il primo gioco ok quindi cosa comporta questo comporta una narrazione nel film che ti presenta il luogo ti presenta un po' questa dimensione alternativa ti dice cose positive e negative cioè soprattutto negative ci sono anche parecchi dilemmi morali all'interno di questa dimensione al centro di Bioshock sono al centro di Bioshock alcuni dilemmi morali insomma c'è tanta presentazione tantissima e stiamo però parlando di un FPS quindi non voglio che diventi Doom con The Rock ti prego quindi The Rock che interpreta Big Daddy guarda che ce lo vedo sì sì The Rock Big Daddy ma forse anche a fare la sorellina no forse meglio Big Daddy quelle scongelano le sorelline di Shining magari vabbè comunque dicevo da una parte dipenderà tantissimo lo scritto la regia è sempre importante ma più che la regia è lo scritto ci vuole un buon ritmo qualcosa che non si blocchi troppo sul narrativo sulla panoramica del luogo insomma è difficile già qua e dall'altra c'è il budget tu devi costruire un nuovo mondo da zero produzione Netflix ma deve essere alto budget perché se no come cavolo fai a fare Daesh queste sono le due cose che mi spaventano appena salta fuori budget ridotto io già comincio a stoccere il naso appena salta fuori non lo so per ora non dico non sono fiducioso per ora sono un po' ma ma più che altri io non capisco la strategia di Netflix che sta acquistando lanciando sembra quasi che vada a caso no cioè della serie non sappiamo bene il target spariamo un po' nel mucchio e da una delle più importanti aziende al mondo tu ti aspetti una no una taratura stanno cercando di accumulare sempre più materiale in previsione della perdita di tutti i prodotti di terze parti che avverrà oltretutto anche in Italia adesso notizia recentissima io me ne sono accorto ieri per caso navigando su Nao è arrivata Peacock che è un'altra piattaforma integrata qui da noi proprio a Nao però si riprenderanno tutti i prodotti di NBC Universal finiranno lì e ci sono magari delle serie o dei film insospettabili che al momento troviamo su Netflix su Prime si faranno veramente la guerra e quindi Netflix quando tutto il terreno sarà stato terraformato avrà al suo attivo un sacco di prodotti originali in archivio adesso ha perso anche le serie Marvel quindi deve produrre 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 secondo me a un certo punto si fermeranno perché la cosiddetta strategia del debito a un certo punto deve anche riequilibrarsi e mi sembra che nel 2022 per i contenuti spenderanno 19 miliardi di dollari avremo 80 film originali quindi uno e mezza settimana rischia veramente di diventare una cosa ma neanche la Disney produce così tanta roba in un anno neppure le più grandi major in tutti i settori finché funziona poi c'è anche da dire che allo stesso tempo stiamo vivendo in un'epoca di transizione ovvero stanno un po' tutti tastando il terreno su nuove modi e nuove tendenze da lanciare ad esempio adesso vogliono provare a puntare sui cine games io già sto stringendo i denti vediamo dove va l'attenzione della gente e poi puntiamo quindi è vero anche questo ma che poi quello che mi sconvolge è che da 15 anni che puntano sui cine games ma ne avessero imbroccata una Sonic sì 300 quant'erano 350 milioni c'è proprio attenzione ci sarà il sequel di Mortal Kombat lo so ma lì ma lì è ma lì è ma come comunque non vi preoccupate Sub-Zero ritorna perché l'attore aveva firmato il contratto per altri 4 film però attenzione spoiler io non voglio arrivare al giorno in cui faranno il film su The Sims perché secondo me siamo vicini a un momento in controllo è The Truman Show il film su The Sims credo esatto oppure io The Sims lo vorrei ma la Black Mirror ci sono queste persone costrette a fare azioni ridicole perché qualcuno li direziona dall'alto anche una metafora del divino diventa un progetto incredibile Oscar miglior film però in un pomeriggio devono passare dall'adolescenza alla vecchiaia e devono parlare in una lingua incomprensibile quindi fai un mashup di bandesnatch old fai un mischione diventa un horror psicologico incredibile con questo diamante verde che gli spunta sulla testa e loro no no ti prego e già mi immagino i titoli di testa con questo diamante che scende this this diretta da Jordan Peele ci sto ci sto e poi in inquadratura su Jordan Peele che ci guarda dice no no ragazzi contattateci noi abbiamo un sacco di progetti da vendervi abbiamo idee non per forza belle non funzionali ma abbiamo idee esatto esatto passiamo al main event ritorniamo a parlare del cavaliero oscuro in chat si discuteva di quello di Pattinson ma non è di lui che dobbiamo discutere io vorrei ricordarvi che quest'anno di Batman al cinema ne vedremo tre evviva e oggi parliamo di quello di Michael Keaton che come sappiamo ormai da tempo ritornerà ad indossare i panni del crociato incappucciato in quel del film The Flash sono state diffuse le prime immagini e siccome la Warner fa sempre le cose per bene seguendo una logica un criterio queste prime immagini non fanno riferimento proprio a The Flash bensì al film su Batgirl che a livello di timeline è quello successivo ok accettiamo questa proposta si tratta di foto liccate in maniera presunta questo che significa che non sono foto del personaggio in posa non c'è la post produzione sono foto scattate da qualcuno presente sul set a riprese in corso e allora osserviamo questo Michael Keaton nel suo bel costumino e cerchiamo di capire per entrare nel mood immaginatevi la vicina di casa che dice oh avete finito di fare il casino alla fine si stufa e fa le foto ecco ora siamo nel mood esatto cerchiamo di capire se questo costume questo Keaton ci aggrada poi sono foto lo vedrete bene liccate fino a un certo punto già la prima ci manca solo che gli dicessero no mettiti al centro ok così bravo bene vediamole ecco questa infatti è la prima per chi si aspettava un Michael Keaton soltanto mentore qui lo vediamo combattere contro degli sgherri sì è palesemente una controfigura ci dicono assolutamente però sappiamo che poi il personaggio anche nei primi piani indosserà proprio questo questo costume e questa è la prima foto che ci viene presentata perché sappiamo per certo che si tratti del film su Batgirl perché qui intravediamo il Gordon di J.K. Simmons già confermato per quel film nello specifico e non per The Flash proseguendo qui vediamo ancora meglio il Gordon di Simmons che ve lo dico subito secondo me è perfetto credo sia un Gordon estrapolato dalle pagine scaraventato sullo schermo e io sono tristissimo nel pensare che questo Gordon sia stato assegnato al ramo più deprecabile della DC cinematografica dannazione speriamo che magari in Batgirl riesca a riscattarsi io ve lo auguro e chiudiamo con quest'altra immagine del Batman di Keaton dunque lo ripetiamo siamo in una via di mezzo tra foto pianificate nel dettaglio e foto tra virgolette rubate che non ci crediamo più ma facciamo finta questo per dire che se osservate bene quest'immagine il costume sembra veramente fatto di gomma di copertone di automobile ma appunto un costume da stuntman da controfigura e quando ci saranno le inquadrature nei dettagli invece sicuramente avrà tutta un'altra foggia e tutta un'altra dignità a me non è che convinca proprio tanto 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 o meglio dipende dai vari dai singoli elementi il cappuccio mi piace moltissimo di certo siamo dalle parti del costume classico del personaggio nei film di Barton però sarà appunto questa natura molto gommosa saranno quei pantaloni strani ma c'è qualcosa che mi stona nel design poi ripeto qualsiasi giudizio un po' preliminare vedremo nel film di certo sappiamo che quel riferimento estetico è veramente a quello di Barton non è che abbiano ritoccato il costume più di tanto magari ci si poteva attendere che dopo tutti gli anni passati e trascorsi gli avrebbero dato una sistemata magari una riverniciata ma così non sembra oltretutto di immagini ufficiali del personaggio in flash non ne abbiamo ma se ricordate i concept art io qui leggo palesemente un flashback secondo me no tra poco ne parliamo se pensiamo i concept art presentati al DC fandom di due anni fa per annunciare The Flash e il costume più o meno era questo certo erano disegni poi le cose possono cambiare ma il costume era essenzialmente proprio questo qui perché secondo me non è un flashback perché ragazzi c'è Gordon voi dite che essendo i capelli così vivi a livello di colorazione potrebbe trattarsi di un Gordon più giovanile a me non sembra secondo me è un semplice redesign del personaggio dopo la Justice League di Whedon slash Snyder perché l'attore non indossa quei classici pallini che servono per ritoccare il volto in CGI non sembra avere del make up applicato per renderlo più giovane magari siamo ritornati ai tempi in cui bastava veramente cambiare il colore dei capelli per fingere però a me non sembra non credo sarà un flashback poi magari avete ragione non possiamo saperlo sono solo speculazioni teorie ma già e ritorno ai concept art di The Flash un'altra volta in quelle immagini lo si vedeva combattere Batman non era su uno scranno a fare il Bruce Wayne di Batman Beyond come molti sognano e sperano senza considerare che se teniamo fede a tante teorie proprio sul film di Flash dovrebbe esserci una sorta di riscrittura dell'universo DC al che il Batman di Keaton dovrebbe diventare il Batman ufficiale del DCU a conti fatti sovrapponendosi a quello di Affleck e quindi sono consentiti anche cambi nel look dei personaggi secondari in questo caso di Gordon non lo so a me non dà tanto l'idea di flashback staremo a vedere neanche a me comunque condivido le tue impressioni riguardo al costume per la serie immagini che puoi sentire porca miseria cioè è fatto partimi nell'altra immagine volevi l'ultima quella dove si vede la piega nel costume i pantaloni sembrano fatti dello stesso tessuto degli stivali per la serie io mi immagino già questo uomo che si muove e fa rumore ovunque non lo so ricordiamoci che presumibilmente è un costume da stuntman e vi ricordate le prime immagini del costume di Pattinson anche in quel caso c'era uno stuntman sembrava fatto con il cartongesso e invece poi nei trailer e tutta un'altra cosa in quanto ti stavo dicendo ancora presto per dire qualcosa perché poi dopo ci sarà magari ci faranno una ritoccatina al montaggio cose così quindi è ancora presto per dire però l'aspetto così grezzo caspita sembra veramente cioè scomodo sembra veramente scomodo girare e muoversi in questo modo poi quello che mi spaventa tanto è appunto questo passaggio tra Keaton e lo stuntman cioè Keaton ha 70 anni e lo dico mi porterà anche venino per carità però ha comunque 70 anni quindi se tu mi mostri prima un tizio che fa una mezza ruota un salto un calcio volante e poi dopo c'è Keaton così vabbè ok c'è l'ospensione dell'incredulità diciamo così tutto sommato in Spider-Man era in forma nonostante la verità era credibile come avvoltoio non avevi dubbi che potesse fare quelle cose è vero è vero è vero dai infatti questo forse è un su questo possiamo chiudere un occhio non lo so non so cosa pensare francamente non ho il costume non mi dispiace non mi dispiace il vecchio simbolo giallo old style per quello 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 non mi dispiace però per il resto boh boh vediamo vediamo speravo di vedere il Batman di Keaton soprattutto mentore del tipo c'ho una certa fiacca so stufo vediamo di trovare successori invece no qua ancora scende scende giù magari sarà veramente così e ha ragione chi dice flashback ripeto io non sono convinto che lo sia a meno che quel concept art di The Flash fosse proprio menzognero vedevamo adesso lo cerco magari mentre sentiamo l'opinione di Simone ma c'erano proprio il velocista scarlatto il cavaliere oscuro fianco a fianco il costume era questo e sembravano in procinto di combattere vero che è un concept però se hai in mente un Batman semplicemente mentore non lo infili in un'ipotetica scena action in fase preproduttiva secondo me a meno che il mentore dopo aver piantato il costume al chiodo da anni non si ritrovi costretto a scendere in strada ancora una volta questo è vero per dire certo l'ho trovato intanto adesso ve lo faccio vedere interrompo la condivisione di queste immagini e vi faccio vedere proprio il concept a cui faccio riferimento il costume è quello lì e sta combattendo contro almeno un malintenzionato quindi non sono proprio certo che di flashback si parli cioè se il vostro dubbio è ma no ancora Keaton che combatte è così sembrerebbe sì Simon adesso ritorniamo alle foto del Bat Keaton che ci dici? è che secondo me l'ultima foto che hai mostrato quel costume è la perfetta allegoria di quello che stanno facendo cioè è pezzotto e non sta molto bene adesso no ma davvero cioè poi i miei non sono neanche giudizi sono pre giudizi ovviamente perché poi quindi io lo dico con cognizione di causa poi magari però vabbè allora prima di tutto se già avevamo qualche piccolo piccolo presentimento che il film Batgirl potesse aver successo io vi invito a guardare chi sono i registi che sono quelli di Bad Boys for Life quindi già per questo si parte no io ti ricordo che nel 2020 escludendo i film asiatici Bad Boys for Life è la pellicola che è incassato di più ma su questo ma infatti io non dico che pensate diciamo che se non ci fosse stata una pandemia forse non sarebbe stato così però penso anch'io io voglio sperare che sia per quello no però nel senso il concetto è sempre lo stesso secondo me questo genere di film vivono o di una produzione che sa perfettamente che cosa sta facendo e quindi ha una visione molto lucida tipo quando la Marvel faceva Civil War e i fan tiravano i gatti perché avevano stravolto ma allora avevano un'idea molto chiara e quindi bisognava fare una cosa così e quindi o la produzione è molto chiara o il regista di peso che ti fa la figata la cosa migliore sarebbero tutte e due le cose però può anche esserci il regista mestierante però al servizio di una produzione importante a me non sembra così dico per di primo acchito non mi sembra che abbiano un'idea molto chiara dove andare tu hai detto giustamente che Gordon è bellissimo fatto e finito sì però ricordiamoci da dove è arrivato quel Gordon cioè da Justice League gli hanno dovuto cambiare un po' il look e questo sarà un film in cui si chiama Batgirl ma abbiamo Michael Keaton e Gordon già quindi io non so esattamente con che focus e poi io adesso beh Batgirl da lungo tempo imparentata con Gordon sì è la nipote è passata ad essere la figlia direttamente ah ok no è che è anche un personaggio tragico Batgirl cioè ha in alcune testate fa una fine anche importante sì e quindi il potenziale per fare delle cose molto valide ci sarebbe tutto però anche se deve ancora a debuttare già stai a parlare di come deve finire dalle tempo e no però dipende come lo concepisci capito e poi io dico questa cosa sarò per me dovevano puntare se proprio vuoi sfruttare la nostalgia cosa che non sta facendo assolutamente nessuno in questo periodo di ancora recuperare le salme se proprio vuoi ma allora fai quello che i fan se proprio vuoi accontentare i fan fai quello che la gente vuole da tutta la vita cioè l'adattamento di Batman of the Future dove lui fa da mentore e funziona e la gente cioè io mi ricordo che la serie veniva anche abbastanza seguita posto che sembrava cioè per me in un universo parallelo sarebbe dovuto essere Sean Connery a fare il Bruce Wayne anziano però hai Michael Keaton usalo per quello non fargli tirare le botte che tanto è già ma la teoria di Scream non è deprecabile magari è il mentore ma ogni tanto deve scendere in campo o magari proprio scendendo in campo si rende conto che è tempo di ritirarsi e che invece io lo sospetto che questo Batman lo vogliano fare agire come perché non so se i rumor sono veritieri ma se veramente puntano una riscrittura e poi il Batman del DCU non puoi tenerlo dietro le quinte si pensava anche a un ruolo alla Nick Fury per lui quindi metà e metà così dissero alcune voci di corridoio sarà il Nick Fury del multiverso DC boh no è che cioè alla fine dai poi adesso scusa se ti interrompo ma Michael Keaton non è messo così male dai cioè Clint Eastwood che ancora nell'ultimo film faceva finta di picchiare la gente insomma no quello è vero però la cosa che a me colpisce dei nuovi progetti DC ma anche di alcuni in Marvel è che si fa più speculazione sui vecchi personaggi che ritornano che sulla storia in sé o sull'evoluzione dei personaggi centrali alla narrazione no cioè uno dovrebbe dire ah allora cosa succederà magari succede quello magari succede quello chissà che rapporto è giusto Gordon ma Michael Keaton già così secondo me la oscura un pochino che è un bruttissimo gioco di parole col cavaliere oscuro però oscura lei non oscura a se stesso vedremo è anche vero che Batgirl è un personaggio strettamente collegato a Batman e se non c'è Batman lei a chi si ispira e poi scusa volevo questa mia ignoranza ma lei non aveva una cotta per Batman no quella è una cosa che hanno fatto nel film animato di The Killing Joke che non è piaciuta a nessuno a livello canonico ha sempre avuto degli intrallazzi con Dick Grayson ti remolla varie ed eventuali non ha mai avuto un partner fisso però se pensiamo ai fumetti Batman è leggermente più grande poi lei è maggiorenne sì però scelte un po' bruttina come cosa no è che la differenza di età è notevole con Michael Keaton sì infatti credo eviteranno credo eviteranno e comunque la cosa che ci fa che colpisce è che di tutte le foto trapelate non ce ne sia una di Batgirl no c'è c'è ah c'è ok come si non l'hai vista no non l'ho vista me la sono persa ha un costume tra l'altro a differenza di questo di Batman che si rifà le radici dark proprio bartognane ha un costume molto colorato simile a quello che indossa nei fumetti il giorno d'oggi adesso lo ripropongo perché magari non tutti l'hanno visto se lo ricordano ma è molto diverso a livello di impatto e di impostazione certo ha sempre il logo giallo che volendo si riconduce è questo qui yes ah è vero non l'avevo completamente rimosso sì e a me non dispiace tra l'altro no no mi convince di più delle altre fa un po' tutta da sciatrice però dai va bene sì però ci sta urban street sì sì però immaginarla al fianco di quel Batman lì fa un po' strano sì 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 a livello di colorimetria forse l'abbiamo pensato apposta per creare questo contrasto di colori che rispecchia anche un contrasto magari non so di ideologie o il vecchio e il nuovo cose del genere ai miei tempi si risolvevano le questioni così arriva questa io io non voglio fare il pessimista ma io di questo film penso che tutto quello che ci stiamo che stiamo pensando che ci stiamo aspettando lo dobbiamo abbassare un po' nel senso tutti i ragionamenti a flashback non flashback secondo me se ne sbatteranno altamente come hai detto tu Mattia ricordiamoci anche tu parli di abbassare le aspettative ricordiamoci che sarà un film per HBO Max non arriva al cinema questo qua quindi già ti fa capire è un film per la tv eh sì è un film per la tv ma così come sono film per la tv le serie molte serie della Disney che sono allungate però secondo me erano progetti in cui credevano e non credevano e questo secondo me è un po' analogo probabile sì tanto noto come al solito grande confusione in chat Batgirl sarà ambientato nell'universo di Barton ragazzi è il DC EU sembra e ripetiamo sembra che nel film di Flash basato su Flashpoint ci sarà una riscrittura dell'universo DC e che quindi saluteremo per sempre il Batfleck che peccato che quello di Keaton diventerà per riscrittura della storia appunto quello ufficiale del DC Extended Universe ma forse non è neanche direttamente quello di Barton perché in Flashpoint il simpatico velocista viaggiando nel tempo per cercare di salvare la madre che è morta a seguito di un omicidio alterava il corso della storia un po' la dinamica ritorno al futuro cambia un dettaglio stravolgi tutto nei fumetti non stravolgeva le sembianze e l'aspetto dei personaggi al limite stravolgeva i loro percorsi qui non so come si faccia passare dal Batman di Affleck a quello di Keaton francamente magari invece di viaggiare nel tempo viaggia nelle dimensioni non lo escludo non lo escludo e in qualche modo unisce e sovrascrive le due linee parallele diverse forse però ragazzi questo non è mondo di Barton questo è DC EU c'è il Gordon di J.K. Simmons più chiaro di così no ma poi tra l'altro la gestione secondo me dei personaggi dell'aspetto è una cosa che sia Marvel sia Warren DC non stanno curando moltissimo cioè in Loki le varianti sono in un modo in Doctor Strange le varianti sono tutte uguali a Doctor Strange e qua anche secondo me cioè nel senso fanno fuori Affleck perché adesso in qualche modo con un escamotage tra 5-10 anni magari lo ricicciano fuori per una qualche ragione tanto la gente dimentica difficile perché Affleck non è che abbia proprio amato il ruolo però no anzi ha ringraziato Matt Damon che l'ha convinto di abbandonarlo però le cose cambiano dai 10 anni esigenze monetarie e forse no ma adesso il progetto è bello è fatto bene torna bisogna lasciare largo la nostalgia comunque se sembra tutto così confuso se non ricordo male Michael Keaton stesso aveva rilasciato qualche dichiarazione riguardo alle domande ma aiuta a capirci aiutaci a capire un po' cosa vedremo cosa non vedremo e lui ha detto sinceramente non ci ho capito nulla vero eh non ci ho capito nulla quindi vuol dire la confusione è cioè immaginatevi uno che dovrebbe sapere tutto dovrebbe e non ci ha capito niente quindi buono buono c'è chi scrive allora può tornare Jack Nicholson non so se l'avete visto recentemente Nicholson a parte che è anche ritirato da recitazione mi sembra ma state attenti a quello che desiderate posto che nel film di Barton è morto Joker tra l'altro anche se fanno riferimento a quella continuità narrativa è schiattato ma poi che scontro dovremmo vedere cioè mi immagino si trova con il deambulatore che si avvicinano sì veramente no altra domanda ricordiamoci che comunque un'ipotesi questa qui della riscrittura un'ipotesi The Suicide Squad viene cancellato ma perché mai cioè i film che abbiamo visto sono avvenuti sono avvenuti quegli eventi che hanno portato Flash a decidere di compiere un viaggio nel tempo ma poi la sovrascrittura non è che deve coinvolgere tutti e la dinamica di New 52 mi rendo conto che in pochi abbiano letto quelle storie però in New 52 l'ultimo reboot in casa DC fumettistica sulla base proprio di Flashpoint Flash viaggiava nel tempo impediva l'omicidio della madre si ritrovava in una realtà alternativa dove gli Atlantidei combattevano contro le Amazzoni Batman non era Bruce Wayne ma il padre Thomas Wayne e il Joker era Martha Wayne perché era morto Bruce quella famigerata notte un casino incredibile faceva di tutto per ritornare al punto da cui era partito ma ormai aveva alterato qualche elemento e quindi alcuni personaggi avevano origini diverse alcuni avevano storie diverse alcuni erano rimasti uguali identici possono fare tutto il cavolo che vogliono tutto qua semplicemente secondo me vogliono sbarazzarsi di Affleck e di Kevil visto che qui avremo Supergirl che secondo me non è un personaggio ex novo secondo me è Superman donna in questa dimensione alternativa in cui si trova Flash secondo me è proprio Superman donna e probabilmente ce la portiamo dietro anche lei sono teorie ovviamente speculazioni magari invece lui torna nel suo presente intendo Flash e tutto come prima però c'è il Batman di Keaton che interagisce con Gordon col Gordon di Simmons e Batgirl nel DCU quindi qualcosa cambia poi avevamo analizzato anche il murales dove questo Batman aveva un Robin non tanto vestito però come quello di Batman Forever e Batman e Robin ma come il Robin più classicamente fumettistico chi lo sa poi io mi chiedo io mi chiedo ma il pubblico generalista cosa capirà noi siamo qua ne parliamo eccetera niente io sono curioso di capire quale sarà la linea di demarcazione tra non capisco ma chi se ne frega mi diverto e non capisco e mi da fastidio sono curioso perché tu quest'anno gli proponi il Batman di Pattinson e poi in Flash il Batman di Affleck ancora e il Batman di Keaton ancora c'è la gente che vuole vedere il Joker di Phoenix con Pattinson senza pensare alla timeline a quelle cose lì il caos sì che poi secondo me il rischio che un progetto affossi l'altro cioè che magari la gente ha visto magari The Batman è andato benissimo però la gente stufa di vedersi Batman quest'anno e non è assolutamente invogliata a vederlo nuovamente cioè il rischio che si penalizzino cioè è quello cioè ogni ogni tanto come per Netflix stai lì e dici ma questi sono i colossi avranno le idee chiare no non penso proprio ma anche perché al DC fandom di due anni fa hanno dato il Tana libera a tutti ragazzi il multiverso un concetto bellissimo presente tutto quello che abbiamo fatto vale tutto cioè tutto canonico possiamo fare il cazzo che vogliamo la gente applaudì e quindi e quindi ok vabbè ultime speculazioni volete che vi faccia rivedere il costume bello eh così non convince tantissimo però no ecco però una cosa di queste foto secondo me importante sono palesemente delle foto studiate e quindi la teoria per cui i leak non hanno vabbè non c'è bisogno di queste foto per capirlo però secondo me mai ci dobbiamo mettere l'anima in pace che i leak sono una strategia di marketing come un'altra assolutamente sì ripeto curioso che abbiano leakato non le immagini di flash dove il personaggio dovrebbe fare il suo ritorno ma direttamente quelle di bad girl così abbiamo schippato una fase ti è sì hanno detto ma saranno più interessanti ma tra l'altro creano anche confusione perché io stamattina ho visto delle testate giornalistiche dove non era ben chiaro che questo fosse bad girl the flash ho visto dei titoli un po' confusi a meno che non abbiano tenuto nascosta la sua presenza fattibile il Gordon di Jakey Simmons è in bad girl non è in flash sì sì quindi anche perché in questo momento stanno girando bad girl flash è già bello che è finito sì e allora è bad girl per forza non è flash chi vivrà vivrà comunque noto dell'entusiasmo benissimo direi che con questa carica emotiva possiamo procedere verso l'angolino dell'umorismo questo è il jingle dell'angolino dell'umorismo che triste vabbè ci sta quindi ok lo rifaccio no 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 va bene bene e allora iniziamo con le mitiche ultime barzellette sui carabinieri che non sono mai le ultime in realtà e oggi c'è un trittico incredibile incredibile ci credo il vermut signore lo gradisce chinato no grazie lo bevo in piedi devo mettere anche le musiche la sai l'ultima no il bambino al papà carabiniere che sta riordinando la casa papà papà dove sono le piramidi boh in ripostiglio in garage no questa no non l'ho capita no io l'ho capita anch'io l'ho capita purtroppo il padre stava riordinando la casa e pensava che le piramidi fossero un oggetto presente nella loro abitazione ma io sto cercando di collegare con piramidi cosa avesse capito il padre fino a lì ci sono arrivato non lo so non lo so l'ultima vai meno male due militari dell'arma se la raccontano sai ho conosciuto una che lavora nel cinema cazzo che culo e cosa fa l'attrice no marchette nelle ultime file non c'è neanche la punchline non c'è niente storie vorrebbe far ridere che una donna di facili costumi guarda si dice che con il giusto accompagnamento musicale qualcosa potrebbe dare il massimo in questo caso ci vorrebbe un bel violino triste comunque ti leggo il mio articolo di giornale strano ma vero veramente successo è successo anche a Vicenza non so se l'ho già letto nel caso lo rileggo bloccato con mille profilattici si difende servono a me è successo a Vicenza saranno anche a fare i suoni passeggiava con indifferenza sul viale delle prostitute in piena notte i carabinieri lo hanno fermato per un controllo addosso aveva 1098 profilattici quindi li hanno anche contati l'uomo un mestrino di 43 anni ha tentato di giustificarsi spiegando che quell'enorme scorta era tutta per lui poco convinti di trovarsi di fronte a un instancabile Casanova i militi sono stati inflessibili lo hanno multato per vendita abusiva l'uomo hanno fatto osservare non è neppure iscritto al registro degli ambulanti è ottobre 1993 secondo me servivano davvero a lui anche secondo me anche secondo me 1086 meno male è un business comunque sì sì servono a me un moridero vivi tanto a lungo da diventare un venditore abusivo di profilattici era più o meno così la frase di Harvey Dent perché 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 voi siete siete malpensanti magari era sincero è un non puoi mai sapere come va avanti la serata quindi meglio girare con un po' di score vero sono d'accordo non sai mai va bene passiamo all'angolino dell'autopromozione para e allora Allora, cari spettatori, vi invito ad iscrivervi, a mettere mi piace a questa puntata dello show, nel caso la stiate apprezzando. E come fare a non apprezzarla? Mi chiedo io. E soprattutto commentate, perché adesso leggeremo ciò che avete da dirci. Ma la priorità viene data a chi utilizza la funzione Super Chat. Ancora maggior priorità verrà data agli abbonati che si sottoscrivono al canale cliccando sul pulsantone abbonati presente qui sotto e così ottengono tanti vantaggi, ricchi premi, cotillon, come appunto la possibilità di farsi leggere, di farsi ascoltare ogni giorno nello show, l'occasione di assistere ogni settimana a due puntate speciali del suddetto show della durata di un'ora in cui rilassandoci, bevendo, qual era il cocktail lì? Il vermouth, discutiamo del più e del meno. E poi gli abbonati di rango più elevato, come il nostro Simon, possono diventare ospiti dello show. E noi lo ringraziamo per questo. E poi vi ricordo la collaborazione con Pampling, sito di magliette e articoli nerd. Ogni giorno ci sono magliette nuove, fresche, che potete acquistare. E quella di oggi a me piace particolarmente. una t-shirt dedicata a uno dei cattivi migliori della Disney, il zietto Scar. Se volete far la vostra vi consiglio, prima di acquistarla, di inserire il codicillo, mentre siete lì, Intima 8, perché così facendo vi porterete a casa un bel paio di calze gratis. Non sono calze qualsiasi, ma bensì calze sempre nerd, con stampe varie ed eventuali, varie fogge. Inoltre il codice Intima 8 non scade mai. Potete utilizzarlo ad libitum, all'infinito. E così facendo accumulate punti sconto, spendibili poi sul sito. E oltretutto rendete più ghiotte delle promozioni già cattivanti, come quella 4x40. 4 maglietta 40 euro, con il codice non pagate le spese di spedizione e vi cuccate sempre le calze gratis, fino a riempire i vostri armadi. Non saprete più dove metterle. Abbiamo il sondaggio del giorno, che lancio in questo momento. Lo trovate nella chat, nella sezione community del canale, nelle storie di Instagram. E la domanda è presto detta. Eccovela qui. The Batman, anzi Batman e basta, togliamo l'articolo. Le prime immagini del ritorno di Michael Keaton vi sono piaciute? E voglio sapere la vostra. Vedremo al termine dell'episodio come vi siete schierati. Avrete dedotto che sono immagini piaciute molto a Scream e Simon. Sono innamorati? Voi l'ha pensato uguale? Lo scopriremo tra qualche minuto. Nel frattempo dedichiamoci alle domande audio degli abbonati. E allora andiamo su Telegram e scrutiamo, scopriamo quali quesiti ci vengono rivolti. Oggi il primo a farsi largo è Mario, che riottiene la posizione numero uno. Ascoltiamolo. Buongiorno Mattia, buongiorno al tuo ospite, al tuo ospite o ai tuoi ospiti. La domanda che vorrei farvi oggi riguarda i sottogeneri. Mi spiego meglio, anche se dovrebbe essere piuttosto chiaro. Sappiamo assolutamente che il genere cinematografico, al suo interno, ha ospite a tanti sottogeneri. Per esempio l'horror, c'è l'horror psicologico, l'horror fantascientifico, lo slasher, il thriller e via così. Anche le altre commedie, i fantasy. Vorrei chiedervi in questo caso qual è il vostro sottogeneri horror preferito e quale invece vi fa proprio schifo. Personalmente io amo molto l'horror alla Conjuring, mentre non amo moltissimo l'horror psicologico. E nemmeno quello alla vostra, per capirci, quello troppo gore. Grazie e buona giornata a voi. Molto bene, qui abbiamo un esperto, Sir Scream. Sì, tanto che io avevo scritto secoli fa anche una guida ai sottogeneri dell'horror. Non finiva mai, non finiva mai. L'ho fatta in 3-4 parti, non mi ricordo neanche. Cioè, proprio, era lunghissimo. E voi non avete idea di, ma come l'horror? Quanti sottogeneri può avere? Immaginatevi, infatti stavo sfogliando adesso, per ricordarmi a qualcuno che aveva scritto il Cannibal Movie, dove ho messo, sì, l'immagine di Zipo Perone davanti al tacchino. Non lo so, il Dolls Movie, c'è un sottogeneri anche quello. Gli horror a tema bambole, per parte così. Quindi, qual è il mio preferito? Che ne so. So quale non mi fa impazzire, non mi fanno molto impazzire i slasher in generale, a meno di non avere qualche componente particolare. Cioè, perché lo slasher è un... è semplicemente cattivo, ammazza, cerca di ammazzare in maniera un po' creativa, ma spesso si riduce semplicemente al colpo e fine. con il body count, con i protagonisti che sono simpatici quanto una stalattita in un piede. E quindi non mi fanno impazzire neanche i vampire movie, ma per una questione del vampiro non mi spaventa come figura. Però ci sono dei vampire movie che mi piacciono, come intervista col vampiro o cose del genere. Il mio sottogenere horror preferito... una volta era lo zombie movie, ma ce ne sono troppi. È stucchevole, troppi zombie movie. Quindi genere possessione, solo dei copie e colla dell'esorcista. Niente, l'horror mi fa schifo, però il mio genere è schifo. Bene. Perfetto. Sì, sì, sì. Simon. Ma allora, io ho un grande amore per l'horror. Infatti in un mio passato tenevo una rubrica che si chiamava Nightmare Before Breakfast, che analizzava in paragoni tra il cibo e l'horror. Allora, lo slasher in realtà mi piace se ha una componente who done it. Cioè, tipo, una cosa come Scream mi piace molto, veramente tanto. Mentre venerdì 13, visto uno, visti tutti. Sono proprio fatico a vederli. Quindi se c'è quella componente forse potrebbe essere anche il mio sottogenere preferito. Perché la figura del serial killer per me può essere molto affascinante e mi fa molto più paura tipo delle possessioni. Perché mi inquieta di più. Però o questo slasher barra who done it o il body horror mi piace proprio tanto. Se fatto bene può essere molto creativo. C'è una serie su Netflix al gusto di ciliegia che non è male. E quando fanno gli esperimenti è perché più o meno a grande linea e sanno che cosa stanno facendo. Invece quello che proprio mi fa non mi dà assolutamente niente è proprio quello dei demoni. Cioè, dei demoni o film con possessione demoniaca che, come ha detto Scream, hai visto l'esorcista, gli altri sono come in colla. con poche variazioni. Non è un genere molto prolifico e fanno pochissime variazioni infatti. Quindi, sì ma no. Dunque, io utilizzo delle scelte già elencate da voi. Da un lato gli zombie movie, vero che sono troppi, però a livello di dinamica mi piacciono sempre. e poi effettivamente gli slasher dove però non sai chi è il killer. Perché io amo i gialli e quella è una derivazione molto più thriller. Horror dipende come uno intende l'horror. Ad esempio, Scream, le uccisioni, non è che siano particolarmente creative o splatterose. Esatto. Però funziona. Ed è una cosa che mi fa impazzire. Io allo slasher preferisco al massimo il rape and revenge. Che è un'altra categoria. Cioè, sostanzialmente è quasi lo stesso. Soltanto che invece di esserci un cattivo che uccide, c'è una vittima che si vendica. Quindi la vittima diventa carnefice e lo spettatore ti fa per la vittima carnefice. È come se tu ti fassi per Jason. Però fai bene, non ti senti in colpa. E c'è più creatività nel rape and revenge. Perché comunque ammazza degli stronzi. E c'è più creatività e anche più soddisfazione. Perché vedi della gente morire che effettivamente non sono degli stinchi di santo. E in più il protagonista o la protagonista carnefice ci mette anche fantasia, va per il contrapasso. Per me è meglio il rape and revenge in generale. Bene, bene, bene. Poi abbiamo sempre Mario, sempre lui. La seconda domanda la potremmo chiamare forse le parlerete oggi casomai schimpate tranquillamente accanimento terapeutico. Perché la Paramount oggi tra ieri sera e stamattina ha annunciato a che faranno una nuova trilogia di Transformer. Basta ragazzi, non siete po' più. il disco di Bumblebee no e questi sì. Ma anche ha annunciato che faranno un nuovo film di Star Trek dopo il flop del Star Trek Beyond che non ha visto nemmeno la mamma del regista con produzione J.J. Abrams regia Matt Shankman ma il cast rimane la quale tantavamente ricompianto a Nooyer che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Vorrei sapere se voi come me siete propensi in questo caso alla eutanasia del genere o se invece siete puliti di vedere cosa uscirà fuori dall'ennesima esumazione dei cadaveri grazie a voi e una buona giornata. Grazie. Intanto per la prima parte ho sentito un Travatare in lontananza che... Ma non so se anche Travatare è contento perché lui avrebbe voluto tanto il sequel di Bumblebee e lo capisco è l'unico film decente che hanno fatto. Non mi sono informato sulla trilogia sappiamo che già arriverà un nuovo film di Transformers ma quello è un brand che in fondo in fondo non ha mai floppato completamente. L'ultimo di Bay ha disatteso le aspettative ma non è stata una catastrofe. Bumblebee non è incassato tantissimo ma non è stata una catastrofe. Ci può stare. Star Trek è già un po' diverso perché effettivamente il terzo film nè. Poi avrebbero voluto proseguire facendo una sorta di viaggio nel tempo quindi riportando Chris Hemsworth per interpretare il padre del Kirk di Chris Pine ma non ottennero l'accordo contrattuale con i due attori sembravano se ne facesse più nulla adesso ritirano fuori il quarto film forse perché stanno andando bene le serie contano su quello il brand è stato un po' rinnovato in Italia non mi risulta però in America magari funziona ancora Paramount ha bisogno di lo dicevamo prima bisogno di titoli di successo deve rilanciarsi e quindi le provano tutte il problema è che sembrano un po' troppo radicati a quanto hanno già fatto più che al nuovo hanno un po' troppa paura dovrebbero farsi carico di coraggio contare dare un po' fiducia ai grandi nomi che hanno via e sperare paradossalmente Sonic è una cosa nuova paradossalmente le altre non troppo secondo me il Transformers arriverà fuori di tempo massimo secondo me nonostante siamo andati bene però non lo so forse è una mia bolla però credo che questo tipo di intrattenimento sia stato molto mangiato dai cinecomics come il disaster movie che è stato un po' mangiato da queste produzioni secondo me sono tutte branche di cose che via via vanno un po' a inglobarsi a venire inglobate all'interno di produzioni più forti quindi secondo me Transformers non ha più quell'effetto wow Star Trek non lo so non ho idea perché se dovessi basarmi sull'Italia chi lo segue non lo so ma magari in America è forte come Star Wars io non lo so questo può essere c'ha la sua schiera di appassionati però non è certo quel titolone sul quale punterei metterei un altissimo budget Star Trek mettiamola così c'è sicuro qualcuno che lo va a vedere c'è come cioè Transformers però va più sul sicuro attira già un po' di gente in più non solo i appassionati e i giovani ma anche le famiglie eccetera non grandi numeri ma qualcosa può fare invece Star Trek è qualcosa che finora si è spesso rivolto agli aficionados non lo so per me Star Trek non dico un suicidio ma quasi magari ridimensionano il budget sì potrebbero fare che bello un film si parlava di un film o di una serie di film il nuovo Star Trek uno nuovo nel quarto un film ambientato nello spazio eccetera con budget ridotto mi sembra un ottimo sì lo so che è difficile ma ci fecero una serie tv comunque in realtà se vogliamo dire la verità in realtà se la pensi bene puoi tranquillamente contenerti col budget e realizzare una serie spaziale soprattutto in Star Trek che è esplorazione di pianeti a volte cose del genere lo puoi fare però ma non lo so vedremo approfondiremo ci sarà il tempo la domanda di McLovin un saluto a Mattia agli ospiti dello show ciao una doppia domanda su un argomento che avete già toccato in parte ieri cioè innanzitutto un'opinione sul trailer di Nop il nuovo film di Jordan Peele e poi un parere sull'ascesa di questo cineasta che a me piace molto lo premetto però comunque sia spot trailer al Super Bowl che penso sarà costato quanto il budget di produzione del film e poi come faceva notare ieri Mattia il nome a caratteri cubitali che cala dal cielo del nostro Jordan Peele cosa mi dite? grazie alla prossima il trailer è super efficace come una mossa dei Pokémon non fa vedere niente incuriosisce inquieta è montato alla perfezione io Jordan Peele ho un po' di amore e odio perché tanto mi è piaciuto Get Out quanto noi mi ha lasciato davvero perplesso non ho seguito la sua reinterpretazione della serie TV come si chiama I confini della realtà anche perché in Italia non se ne è parlato minimamente ma c'era proprio lui che introduceva i vari episodi non so se è andata bene se è andata male noto che si è già scatenato un po' di culto della personalità dopo soltanto due film poi un personaggio negli Stati Uniti conosciuto già prima come comico e lo so me l'hanno detto ha vinto l'Oscar alla sceneggiatura per Get Out per carità però vedere questo trailer con il suo nome che campeggia trionfante come fosse Quentin Tarantino mi è sembrato un po' particolare evidentemente funziona evidentemente è già diventato simbolo di un preciso stile e in effetti è così ormai è il nome che fa immediatamente pensare all'horror black ha prodotto anche il rilancio di Candyman è sempre legato a questi horror dalla tematica sociale che utilizzano il genere come pretesto per parlare di qualcos'altro secondo me dovrebbero andarci cauti non vorrei che lo bruciassero in stile Shyamalan bravo stavo per fare quel nome perché dico è una storia che tutto sommato io ho già visto bello il primo film poi dopo alcune cose che c'erano in quel primo film che ha avuto successo che è piaciuto a tutti critica pubblico eccetera lo rivedi anche nel secondo nel terzo che però non sono qualitativamente uguali al primo anzi vanno via via calando a livello di qualità oppure offrono delle mancanze sorprendenti ti dici ma davvero è lo stesso regista di Scappa Get Out e invece sì è così e non lo so io il trailer non l'ho visto francamente lo recupererò però ho visto tante produzioni cioè diverse produzioni di film ho visto anche la serie dove ha messo mano anche lui ho visto un po' di cose e mi sta deludendo tanto ho paura che sia prendendo la strada di Shyamalan nel senso sia troppo radicato su quei punti sui quali vuole far vuole far leva per la sua carriera ho capito che ci tieni ho capito però pensa anche al resto leggo che Candyman ha incassato davvero bene budget di 25 milioni 77 complessivi in tutto il mondo per la regola del 3 sono rientrati ma al pelo secondo me si aspettavano almeno 100 no ma poi per quello che doveva essere ricordiamoci che Candyman la regista era stata se non sbaglio contattata anche dai Marvel Studios per dirigere non mi ricordo quale progetto era qualcosa sotto tanti riflettori e ha un po' disatteso le aspettative controllo perché non mi ricordo neanche più però io mi ricordo che l'avevano tipo pescata a un certo punto l'avevano contattata io invece per allora Jordan Peele per me è un regista importante secondo me il culto della personalità è dato soprattutto da un certo tipo di spettacolo che ha un certo tipo di target per la comunità afroamericana comunque guarda ti specifico sarà la regista di Capitan Marvel 2 ah vedi ti avevo detto ti avevo detto e mi ricordo che l'aveva andata a pescare Nia Da Costa o Naya non so come si pronuncia esatto esatto e secondo me appunto fa lui Peele ha anche prodotto Black Clansman cioè nel senso è comunque molto legato a questa cosa ed è importante secondo noi magari non lo viviamo quanto lo può vivere la comunità afroamericana quindi secondo me al di là dei gusti che possiamo avere in merito ai suoi film però credo che questo culto della personalità a differenza di Shyamalan che non racchiude il senso di una comunità è un ottimo regista un peracottaro quello che poi dipende dal gusto di ognuno di noi perché tra l'altro lui è il primo a barcollare esatto Peele secondo me incarna proprio è un simbolo è per questo che è così importante al di là dei film detto questo il trailer è molto figo a me è piaciuto un sacco è montato bene funziona tutto e quindi sì potrebbe funzionare sono curioso molto intanto io vi confermo che a livello di regia sceneggiatura e produzione non ha mai preso parte cioè parlo sempre di film non ha mai preso parte a progetti non legati a queste tematiche Sam ci deve sempre stare in mezzo io ho detto la più grossa delusione che ho ricevuto nei confronti di un suo prodotto è stato proprio con la serie Lovecraft Country perché con l'horror ci lega appunto la questione razziale queste problemi la dura vita di una persona di colore nei Stati Uniti di quell'epoca di quegli anni è solo che viene trattato tutto superficialmente compresa questo aspetto cioè del tipo ti faccio vedere di tanto in tanto che è così però non vado a parlare da nessuna parte di là vado a mancare un po' cioè è tutto proprio superficiale non l'ho vista quindi non ti so dire abbiamo la domanda del canale di Davide buongiorno a tutti buongiorno ci faccio una domanda a tema Batman dato il fatto che ieri sono state trapelate alcune immagini dal set di Batgirl dove vediamo un giovanissimo Jim Gordon alle prese con il Batman di Mike giovanissimo infatti dico ciao alcuni l'hanno interpretato così però anche lui giovane in questa scena e anche vi chiedo lasciando perdere il fatto che almeno a livello visivo sembra che la DC stia cercando di fare qualcosa di più coerente con i film e con le serie dato il fatto che questo costume di Batman sembra direttamente uscito da Peacemaker se voi guardate i costumi di Peacemaker e guardate questo Batman dite sì appartengono assolutamente lo stesso universo ma lasciando perdere questo come ricepite il fatto che adesso abbiamo praticamente la conferma che il Batman di Keaton è il Batman nuovo del DC Extended Universe dato il fatto che già pare in una scena nel passato? Ne abbiamo parlato prima di tutti gli aspetti elencati io non sono sicuro che si tratti di una scena nel passato perché perdonatemi ma quel Jackie Simmons lì non me lo spacciate come giovane ma neanche a pagare no secondo me è un redesign del personaggio staremo a vedere per carità io sono propenso a credere che si tratti di un reimagining anche per renderlo più somigliante se mi passate il termine alla figlia che avete visto questi capelli rossi fluenti sì non è molto credibile nella versione Justice League secondo me hanno dovuto in qualche modo intervenire per associarli di più poi ovviamente come ho detto prima entrambe le ipotesi sono valide non abbiamo la prova definitiva né da una parte né dall'altra per quanto riguarda Keaton come Batman ufficiale già tema di battute trattato nell'argomento diciamo che è difficile vederlo tornare a 70 anni a indossare i panni di un eroe d'azione sul quale poggiare nuovi film e nuove cose solo su di lui intendo quindi lo vediamo più come mentore come la fine di una parentesi che vuol segnare invece un nuovo inizio o una cosa del genere o meglio lo vedo scusate se non ho parlato bene 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 poi la domanda di Mr. Blake ciao a tutti ciao allora il Batman di Michael Keaton che vedremo in The Flash e poi in Batgirl vi chiedo secondo voi quanto spazio avrà ancora nell'universo DC come presenza e secondo me ora un po' questo giochino sta finendo perché dopo gli Spider-Man il Batman di Tim Burton non credo che ci siano tanti altri prodotti da poter attingere a vecchi personaggi non mettere limite alla provvidenza Ghost Rider credo sia possibile come anche il Darth David di Ben Affleck e altre cose che sono uscite nel tempo che non credo che andrebbero mai a recuperare quindi anche su questo lato qui credo che non ci siano più film dove prendere personaggi e quindi questa cosa pensate anche voi finirà ciao grazie a tutti già nel trailer di Strange c'è un certo Patrick Stewart nei panni di Xavier ma infatti posso lanciare una provocazione lui diceva ormai hanno finito per me hanno appena iniziato anche per me a me viene in mente Wesley Snipes come Blade che tornerebbe subito Nicolas Cage come Ghost Rider aspettate ad escluderlo adesso Cage si sta riassociando alla Disney per il mistero dei Templari 3 e che se gli chiedono di fare la comparsata non la fa lui poi è un mega appassionato dei fumetti si è fatto chiamare Nicolas Cage per via di Luke Cage figurati figurati Ben Affleck già tendo ad escluderlo perché lui è in fase di rifiuto massimo un Ryan Reynolds che ti fa lanterna verde anche un po' per ridere scherzare voglia ci sta ci vuole stare è solo l'inizio per quanto riguarda il ruolo lo ripeto voci di corridoio che non erano del pippero erano testate importanti dicevano Michael Keaton sarà il Nick Fury del multiverso DC cosa questo voglia dire non lo so intanto è lì bello attivo che tira cazzotti sì io penso lo vedremo parecchio no ma poi io ripeto mettiamoci nei panni delle case di produzione Sony Spider-Man No Way Home quanto con questa strategia di riportare il vecchio hanno incassato ma sai hanno incassato abbastanza sì però diciamo lo fai anche tu calma appunto bisogna esaminare un attimino il fenomeno è quel film ha fatto nel momento perfetto in un periodo storico perfetto che può andar bene una volta cioè intendo dire se inizia il filone del facciamo continuamente dei camea la No Way Home fidati che dopo pochissimo la gente si stufa basta 3-5 anni ma può durare 3-5 anni secondo me io te ne dico tra 10 tra 10 anni possono ripensarci secondo me no è una giostra va bene è una giostra d'esposizione che ha fatto felicitante tante persone che però non deve avere un seguito cioè non deve avere tanti altri film simili perché altrimenti perde il suo essere speciale capite cosa intendo e però se entri nella logica dell'ora hanno un bisogno maledetto che la gente vada in sala c'è stata una pandemia la gente ha bisogno di certezze infatti Sanremo è stato molto ascoltato secondo me cioè è stato molto guardato anche perché la gente aveva bisogno di certezze e quindi ti appelli alla nostalgia con gli anni così belli eccetera che magari facciamo proprio schifo con i film o magari no però io invece li vedo molto molto lanciati verso questa cosa qua e per i prossimi 3-5 anni secondo me qualche volta sempre e vediamo poi i risultati potrebbero fare così non lo so li vedo c'è che è sull'usato sicuro anche secondo me ci proveranno ma li condurrà la cosa su una strada irta di ostacoli e di rimpianti per quanto riguarda il mistero dei Templari 3 ne abbiamo parlato qui nello show un sacco di tempo fa non soltanto film in fase molto preliminare di preproduzione ma serie tv su Disney Plus non con Nicolas Cage ma con un nuovo personaggio dovrebbe essere una ragazza che si trova impelagata nella ricerca di tesori misteriosi un po' da Lara Croft forse chissà però è un brand che si sta riprendendo anche lì il vecchio attira c'è poco da fare dopodiché la domanda la seconda del canale di Davide seconda domanda a tema DC e vi chiedo non pensate che la DC al momento se facendo un ottimo lavoro da un lato permettendo ai registi di fare quello che gli pare e di offrire una versione estremamente personale dei vari personaggi ma dall'altro stia fortificando il DC Extended Universe infatti adesso abbiamo sia un Batman iper realistico iper personale per quanto riguarda Reeves e dall'altro abbiamo un Batman quello di Keaton che è estremamente legato al DC Extended Universe detto il fatto che il costume lo ripeto sembra essere uscito da Peacemaker sembra che il costumista sia lo stesso ma questa roba di Peacemaker che ha detto prima io la serie non l'ho vista ma ho visto la sigla io il Batman di Keaton lì in mezzo non ce lo vedo non lo so non lo so non posso esprimere no ma no secondo me no io non ce lo vedo molto bene in quel contesto ma ripeto magari la serie fa pensare ad altro no cioè avrebbe senso in quel contesto se lo facessero esplodere dopo due minuti che entra in scena no cioè in quel caso potrebbe avere senso nella follia generale io non credo semplicemente che ci sia una sovrapposizione ma data proprio dal fatto che quella foto fosse quello che era e che quel costumo fosse quello che era e che Gan giochi con questa cosa del costume ma non credo che siano interlacciati vabbè vabbè ed inoltre è messo in primo piano perché quest'anno non avremo un progetto a lui dedicato ma addirittura due e viene già citato in più di una volta in Suicide Squad e Peacemaker non so se stanno facendo un ottimo lavoro dico la verità c'è il risultato di The Suicide Squad che parla in maniera abbastanza eclatante poi invece Peacemaker sta andando benissimo Joker ha fatto il miliardo Acquame ha fatto il miliardo mi sembrano cose un po' a casaccio io non vedo questa unitarietà mi sembra che stiano sparando nel mucchio a volte c'entrano il bersaglio altre volte meno quando il bersaglio viene colpito allora provano a pompare sempre di più a proseguire sul filone però insomma direi che stiano lavorando bene quando si parla di un mezzo reboot non so dico la mia allora per la questione di dare un pochino più carta bianca ai registi va bene fino a una certa nel senso devono avere comunque un'idea del tipo di prodotto che vogliono avere e quindi del tipo di regista al quale affidare la fiducia va bene lasciare libertà ma devi anche sapere un attimo con chi stai lavorando tolto questo opinione personalissima secondo me il problema del DCEU è il DCEU cioè perché vogliono fare a tutti i costi l'universo legato di quale se ci fosse The Batman se fosse solo Aquaman se io potessi guardare questi film senza pensare che è tutto un universo singolarmente qual è il problema però ti dirò in effetti è così io vedo una certa insistenza da parte del fandom ad unire tutto ormai loro sono i primi che se ne fregano secondo me anche se Flash parrebbe essere in controtendenza perché io sono dell'idea che non ci sia bisogno di giustificare alcun reboot non serve non serve a nulla al pubblico se ne strafrega di queste giustificazioni qui però lì sembra che vogliono dare di nuovo un'unitarietà altrimenti Aquaman nonostante un riferimentino oltretutto in palese contraddizione con il film Justice League fa quello che vuole Wonder Woman la continuità l'ha contraddetta già quelle 20 volte avremo il Batman di Pattinson The Suicide Squad era un rilancio potevi anche non aver visto il film precedente funzionava lo stesso effettivamente a livello economico ultimamente la stanno imbroccando tranne per quanto riguarda proprio Suicide Squad Sì ha detto infatti hai ragione te sono tutti quasi tutti i film a parte quello di Flash che deve arrivare che meno male sono stand alone non so è questo volerli legare che sia una volontà del pubblico eccetera che secondo me è pesante non è necessario non vabbè no ma poi ti dico un'altra cosa secondo me quello che loro hanno paura di ammettere ma che sanno in quel loro è che c'è tanta casualità in quello che è successo cioè non nessuno prevedeva una cosa più che un'altra ma chi l'aveva detto che il gioco che faceva un migliardo ha vinto Venezia hanno fatto una campagna marketing in cui ripudiavano il genere così magari convincevi la gente però non è una roba concatenata con un'altra perché se no il film su Harley Quinn avrebbe dovuto fare i fantastiliardi perché su 6 squad era andato benissimo perché attenzione perché faceva schifo o comunque non è piaciuto e si è portato dietro allora lo rilancio però va male cioè non è non è una visione organica non c'è metodo c'è il film che ti esce bene e il film che ti esce male punto però attenzione a me io la percepisco così io leggo The Batman non fa parte del DCU no ma vallo a dire al pubblico casuale che lo lega probabilmente non sa neanche che esiste il DCU in principio e pensa che sia tutto della Marvel e non scherzo è vero comunque dicevo per il Joker di Phoenix è un discorso particolare lì in realtà si poteva quasi prevedere una cosa del genere è una formula che abbiamo anche già visto quella di prendere un personaggio non positivo e non ho detto negativo apposto non positivo famosissimo e non celebre celeberrimo come il Joker e dedicargli un film tutto suo abbiamo già visto sta cosa con Venom Venom ha spopolato o per quello che ho detto non positivo cioè invece di dire un personaggio negativo proprio perché volevo parlare anche di Venom è una formula che funziona ma non è che basta che sia cattivo e gli dedichi il film e funziona perché loro sono personaggi popolarissimi quindi secondo me era anche prevedibile il successo sì non così tanto anche secondo me non lo pensavano nemmeno loro ma infatti questo Joker 2 è perché probabilmente non sapevano bene come gestirla un miliardo è veramente clamoroso credo sia uno dei film che il rapporto al budget è incassato di più nella storia del cinema ha costato due nocciolini un miliardo anche perché se segui la regola del cattivo narrato allora Malefica avrebbe dovuto fare i fantastiliati cosa che non ha fatto è ma Joker è Joker e poi lì si è creato anche adesso stiamo forse un po' divagando parlando dei motivi del successo ma lì si è creato il fenomeno il Joker è un personaggio già di per sé maledetto per molti vedassi tutte le leggende metropolitane Sweet Ledger hanno scelto un attore molto quotato presso i cinefili in campagna marketing hanno ribadito non è un cinecomico come gli altri noi siamo fighi la vittoria a Venezia l'idea che fosse un film autoriale la gente che ci ha visto o una critica alla società che bello è tutto un insieme di cose esatto infatti io sottolineerei anche sto fatto che è un film che ha portato al cinema persone che non guardano quel genere di film normalmente trovandosi di fronte a una cosa legge l'hanno idolatrata senza sapere che esistono pellicole ben più valide sotto quel punto di vista però per dire non è metodo è quasi casualità se non il giorno in cui usciva Joker loro nella loro idea dovevano avere già pronte cinque pellicole a basso budget dalla storia potente i registi grandiosi che andassero a esplorare tu dici finito Joker fammi due facce l'Utor e vai avanti così e invece non erano assolutamente pronti no 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 anche secondo me ma infatti lì per lì emersero notizie che parlavano nei riguardi di Joker come di un film a un certo punto fortemente osteggiato dalla produzione che non era più convinta appunto veramente l'hanno buttato facendo il segno della croce ed è andato bene va bene dai staremmo a vedere con l'Utor con l'ex Luthor o due facce non avremmo lo stesso successo perché non sono altrettanto popolari quanto oggi no però è anche vero che se sfrutti il trend del filone e se spendi due lire dagli stessi produttori di Joker sì dallo stesso ha detto al catering metti Brian Cranston che ti fa l'ex Luthor mi racconti 40 milioni 120 se a posto mi racconti la storia di questo miliardario inizialmente illuminato che poi si lascia corrompere dalla società e quindi diventa lo stronzo capitalista hai fatto il film stai parlando di Lex Luthor vero? non di Breaking Bad no no perché no ho tanti personaggi in testa con questa però sono tutti realmente esistenti va bene dai secondo me avrebbe venduto tantissimo in quel periodo però adesso è passato un po' di tempo Joker 2 tanto lo fanno Joker 2 lo fanno ma certo che non non è già pseudo ufficiale se ne discute c'è il rumor c'è il rumor lo fanno lo fanno Phoenix che all'indomani dell'uscita del film ma se ci fosse una sceneggiatura interessante io e Phillips abbiamo già un po' discusso Phoenix è quello contrario alle saghe che ha rinunciato a Doctor Strange perché non voleva legarsi al filone era già lì a dire ma forse dai ed era ancora più motivato sarebbe ancora più motivato a non iniziare a fare un Joker 2 semplicemente perché per poter stare in quello stato di forma era sempre di cattivo umore se l'è vissuta malissimo Phoenix quel periodo non non credo vorrebbe tanto tornare in quello stato di forma in realtà guarda che al di là del fatto che lo potrebbero fare come hanno sfruttato fuori orario di Mattis Cossese qua potrebbero sfruttare Bonnie e Clyde tipo con Harley Quinn infatti io l'ho sempre detto per me ci ficano Harley Quinn è buono oppure forse questo anche l'avevi detto tu Mattia dato che Joker ha una storia di origini completamente diversa fai un altro film vabbè non lo intitoli neanche Joker 2 lo intitoli Joker e Harley hai fatto hai fatto sì sì vedrete altro che il miliardo fa il miliardo e mezzo ma sì prendi una prendi una della taratura della Blanchett a fare Harley Quinn boh fatto hai voglia hai voglia glielo faccio io guardate piuttosto li metto io comunque il 16 febbraio 2022 porca troia se domani arriva l'indiscrizione sulla Blanchett vuol dire che ci guardano noi smuoviamo le masse regaliamo idee William A.D.B l'argomento è sempre quello se doveste scegliere una strategia per rianimare l'universo DC e renderlo degno competitor dell'MCU quali film e strategia mettereste in atto? ma io rimango dell'idea di un'idea che tra l'altro continua ad andare avanti cioè quella della Blumhouse del io faccio il film relativamente con poco incasso relativamente tanto e lo faccio utilizzando una chiave autoriale tutto quello che è stile Joker secondo me se facessero questa cosa qui direbbero Marvel tu fai i film con 300 milioni noi lo facciamo con 30 milioni ma paradossalmente incassiamo di più e siamo fighi The Batman non è costato tantissimo appunto si dice 100 milioni che a me sembra strano ma si dice 100 milioni appunto quindi con 300 hanno già fatto esatto ed entra va anche in Cina giusto? va anche in Cina e quindi nonostante la Cina non sia la terra della promessa che dicono comunque un po' ti fa sì sì secondo me la chiave è quella non puoi battere Golia perché è arrivato prima di te è fantastico diventa Davide Scream hai qualche idea in mente? ti chiama la Warner dobbiamo rilanciare l'universo DC Scream ok allora cancellate la parola universo prima cosa allora no io proporrei un ritorno a quello che dovrebbero essere i cinecomics ovvero nulla per forza di cupo serioso realistico e neanche per forza epico perché la Marvel ha preso questo tono epico qualcosa di più leggero scansonato che comunque ha i suoi momenti epici ma non tutto così non è che ogni volta che arriva l'eroe deve esserci quell'aura di oh mio dio una cosa un po' più fumettistica ok un ritorno alla spensieratezza tipo facciamo dei cinecomics io proporrei una cosa del genere io fino a qualche anno fa avrei proposto la reboot fanculo quello che stavano facendo gettate via tutto nell'acqua e ricominciate adesso sono in una situazione in cui probabilmente con un po' più di chiarezza mentale stanno facendo bene a fare ciò che stanno facendo quindi tanti prodotti separati ognuno fa quello che vuole alcuni andranno bene e benissimo acqua meno un miliardo e altri andranno male continuiamo i filoni che tirano e gli altri li lasciamo da parte paradossalmente a me sembra molto strano il Batman di di Pattinson quello proprio un progetto che ma anche lì vogliono creare il sottouniverso loro stanno provando a lanciare l'universo di Batman con i personaggi di Batman più che quello complessivo della DC ok ormai non la recuperi più la Marvel più che altro sullo stesso terreno li recuperi facendo cose diverse Joker hai ragione Simon il Batman di Pattinson secondo me andrà benissimo andar bene andrà bene sì a prescindere ma anche perché tra l'altro noi dobbiamo cioè io prenderei anche in esame gli ultimi due anni che abbiamo vissuto cioè non è detto che nei prossimi cinque anni arriveremo sempre al miliardo e quindi giocare d'anticipo e fare una strategia del genere come The Batman di Pattinson guardi quelli della Marvel dice ma il tuo Eternals non è andato così bene non sei tornato io sono rientrato tu infatti e poi non sento proprio pensando alla strategia che stanno applicando io non sento la necessità di fare una Justice League vedo un fandom che non vede l'ora del mega crossover non ha pagato la Justice League che facciano piuttosto 20 film su Batman da solo perché la gente piace da solo io vedo già alcuni che vorrebbero Robin nel sequel magari lo fanno ma io non lo metterei mai alle persone piace da solo Batman solitario cupo ombroso contro cattivi variopinti la fascinazione è sempre quella del cattivo più che di Batman in quanto tale e via così ne fai 20 con Pattinson se vuole fregateli della Justice League per quello che dico il film su Flash è inutile nella concezione nell'idea dovevano fare un'avventura su Flash punto presentami sto cazzo di personaggio ci è cosa vuole quali sono le sue caratteristiche qual è il suo cast di comprimari no già lo facciamo viaggiare c'è il Batman di Affleck poi c'è quello di Keaton un casotto infatti secondo me non andrà benissimo aspettiamo i trailer per ricrederci tutti secondo me Keaton non ha lo stesso potere di un Meguiro di un Garfield assieme non credo non credo però un'altra cosa che aggiungerei alle strategie che io andrei a cambiare è appunto non pensare alla Marvel come per quanto lo sia quanto sia la concorrenza non pensarla come concorrenza ergo fate conto cioè concentriamoci su questo non guardiamo cosa fanno loro perché guardano un po' troppo davanti è vero poi ripeto se devo pensare al mio sogno bagnato io tirerei giù tutto con la ruspa e ricomincierei da capo e darei a Matt Reeves senti ma non è che convinci Pattinson a fare il Batman di un universo condiviso quindi facciamo prima la trilogia su di lui poi ne facciamo una su un Superman diverso poi magari reintroduciamo Lanterna Verde che è un personaggio che Snyder non aveva sfruttato poi andiamo a prendere qualche personaggio minore lo rendiamo iconico piano piano lentamente riazzeccare i toni giusti per me ci sarebbe anche un reset caspita secondo me loro funzionano quando soddisfano quelle persone che un po' si vergognano di andare a vedere i cinecomic vero vero e dovrebbe ascoltare quella cosa lì tranne Aquaman che è più cinecomic di quello per me rimane l'anomalia Aquaman io non ho ancora capito come abbia fatto a fare un miliardo giuro abbiamo passato non so quante puntate all'epoca dello show a interrogarci analizzando tutti gli aspetti un miliardo Aquaman ok secondo me c'era il capo marketing della Warner che quando ha visto tutti i soldi che faceva diceva cazzo adesso avevo giusto ipotizzato di fare tutt'altro adesso come faccio secondo me il pubblico generalista l'ha confuso per un film Marvel è l'unica anche secondo me hanno visto colorato sono pochi momoa bello tamarro della Marvel della Marvel per me da un certo punto di vista scusa vai pure no scusa è una specie di Marvel che incontra Fast and Furious e genera questo blockbuster tamarro senza pietà sì così con il gnocco la gnocca sì è vero e ricevo per me il più riuscito dalla parte di sì il film più riuscito dalla parte di sì è lo sfortunato appunto dei Suicide Squad ma semplicemente perché al di là del fatto che è molto adulto sì sono bloccato un attimo dicevo al di là del fatto che è un film molto adulto a dire di quello hai la sensazione di sfogliare un fumetto mentre guardi quel film è colorato è cacciarone non c'è troppa aura di epicità cioè ogni tanto sono dei momenti di grandezza che però dopo tornano sull'idiozia c'è la battuta pronta roba così magari non per forza deve essere tutto comico comico però leggero e spensierato a me piacerebbe vedere tanti film anche con personaggi singoli positivi più o meno con quell'impostazione con quella leggerezza più o meno intendiamoci io vorrei magari non acqua ma staremo a vedere il sequel va bene recuperiamo le altre domande domani e adesso il sondaggio Batman le prime immagini del ritorno di Michael Keaton vi sono piaciute in chat vince il sì con il 62% e ad inizio diretta c'era il no con l'80% c'è stata proprio una sovversione della tendenza con il vostro pessimismo avete ottenuto l'effetto opposto e poi nella sezione community ah lì sono curioso vince sempre il sì con il 64% qualche commento dai Mattea Kingdom dice no perché dopo averle viste mi hanno lasciata indifferente Gianmarco Liggeri ho avuto un sobbalzo appena visto il costume adoro troppo questa versione soprattutto nel film dell'89 contento per Keaton che è riuscito a tornare alla ribalta The Nightmare Before Pasquetta sì perché capisco che la resa estetica fotografata in formato video potrebbe essere migliore perché ho 32 anni e su Michael Keaton ha riverso ricordi emozioni scenari che continuano a stimolare la mia serotonina e a farmi sentir bene Luke 983 no mi è sembrato troppo posticcio ma comunque bisogna dire che tutti i costumi prima della giustatina in post generano quella sensazione lì Rossano bevi l'acqua dice sì molto felice per il ritorno del miglior Batman parliamone un attimino stavolta stranamente ci sono più commenti che motivano il no rispetto al sì eppure vince il sì non li ho letti tutti ma andate a controllare su Instagram carissimi vince c'è una situazione più equilibrata forse no siamo lì vince il sì con il 63 per un punto cioè 64 64 e 63 dei miseri yes siamo rimasti in zona ha vinto ha vinto il sì e quindi non siete stati per nulla convincenti sorry va bene ragazzi la puntata termina qui io saluto ringrazio Scream di Stroncando l'orrore come sempre è stato un piacere essere qui in compagnia di Mattia di Simon Leblond quando Scream le capellonne con voi della chat ho cercato di essere un po' vivo e vispo nonostante fisicamente mi senta uno straccio e quando vengo riconvocato ci sono saluto Simon la nostra ganza grazie grazie a tutti è stato molto divertente non abbiamo convinto molta gente ma ci siamo divertiti comunque voi pessimisti che dite che ho un costume brutto oh dannati perfetto ragazzi noi ci vediamo alle 17 per parlare con tanto di spoiler dell'ultima puntata di Attack on Titan pregate per me e poi ci vediamo domani alle 14 sempre per lo show e domani alle 17 per guardare riguardare tutti insieme il primo Avengers facciamo un bel watch together chi vuole venire è invitato la porta aperta per tutti sarà divertente grazie mille per essere stati con noi al prossimo appuntamento scegliete quello che preferite ciao a tutti ragazzuoli ciao 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 a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.